Ora, parliamoci chiaro, cioè io... Allora, già lo sapete cosa penso sul mondo dei videogiochi e l'opportunità, vogliamo metterla al lato positivo, di aprire un grandissimo canale sul gaming, soprattutto quando non fate gaming competitivo e gaming per bimbi minchia, ok? Vi do queste ultime... Le uniche due categorie che forse tirano ancora un po', non su questa piattaforma, peraltro, più su Twitch, qui, diciamo, un po' meno. Quindi posso capire il fatto che già di base il canale... Ma questo gioco in particolare, secondo me, è un connubio di diversi fattori. Vediamoli insieme. Il connubio di diversi fattori qual è? Uno. Prima di tutto, il fatto che... Il fatto che si tratta, bene o male... Tutti essenziali, tranne questo, ok. Si tratta, bene o male, di... Se vogliamo ben vedere, di uno strategico... Non so neanche come si definisce questo qua. Però, insomma, un genere già un po' di nicchia. Poi, aggiungici che io stesso mi rendo conto, quando riguardo i miei video... Come... Come cazzo fai a intrattenere su questa roba qui? La nostra vista è migliore a controllare la fonte. Ma occhi aperti. Se quel posto è sul radar di Ocon, brulicherà di vermi. Io non ce la faccio. Cioè, sono talmente concentrato a non farmi cagare la minchia dalle locuste... Che non ci riesco. Cioè, più forte di me... Io mi rendo conto che voi potreste guardare questo video, anche volonterosi... Volendo vedere effettivamente Gear Statics e dirne... Fra, ma perché cagli la minchia? In effetti è una bella risposta. Immagino che non dica gattini gratis. Attenzione. Zona di quarantena della ruggine polmonare. Ruggine? Perché Ocon dovrebbe interessare? Penso che stiamo per scoprirlo. Ruggine polmonare è una cosa... Il segnale indica che gli archivi medici sono nell'atrio. La... Ruggine polmonare... Questa mappa mi piace, bella. La ruggine polmonare. Ma che cazzo è la ruggine polmonare? Guarda che è la luce. Cioè, la grafica è bella. Cioè, è in linea con i giochi del genere. Ora, non parliamo di... 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 Proprio... Revelations in ambito dei videogame. Però... Ragazzi, la Coca-Cola... Non c'è niente come la Coca-Cola per ruttare... Copiosamente. Andiamo. State a passo. Arrivano. Ma porco il Giuda e il demonio. Cazzo. Cazzo, me l'ha già ferito. Proviamo a fare così. Aspetta. Devo ingegnarmi, purtroppo, sperando che non arrivi a un'idea di verme, perché... Granata! Ok. Questo me l'ho sollevato di culo. Pura gioia! Pura gioia, eh! Oh! Pura gioia! Non è in movimento. E qui devo dare un po' di copertura, perché quello lì è... È veramente... Il re degli stronzi. Sì, siamo a posto! Devo dare copertura anche da questo lato, perché c'è... C'è quello che ho usato come... Ma posso bloccarne al massimo uno, e qui sono una valanga. Vediamo un po' cosa fa il nemico. Occhio! Quel Cantus sta dando una mano ai vermi! Ah, mi ha graffiato! Come iniziare veramente male. Poi? Non respirate profondamente. La ruggine polmonare è un brutto modo di andarsene. Non dovremmo preoccuparci. Dovrebbe essere contagiosa. Ma si contrae con l'esposizione all'emulsion. Secondo i medici, il mio consiglio? Non credere a nulla di quello che quei ciarlatani dicono. Sono gli ultimi proiettili! Cazzo, qui c'è quelle... Quante ne ho ancora? No. Sto ricaricando! Raga, ma che situazione di merda! Riesco a fare un tiro al Gio di Maggio? No, non riesco. Allora, vabbè... Che vogliamo fare? Perché non li... Non li uccidi, purtroppo. Mancato! Ma dai, mancato no! Figa, però posso dire che è sta roba del... Affermativo! Porca... Guarda cosa mi tocca fare, ragazzi. C'è veramente... Adesso vi faccio vedere cosa mi tocca fare. Sto arrivando! Eh, si piglierà un sacco di cazzo in faccia, che volete vedere. Però è ancora più grave il fatto che... Cazzo, è ancora vivo? No. Ma che cazzo? Quando fa così, porco Giuda, il demonio... Mi devi prendere quei vicini! No, niente. Cioè, io non riesco... Così? Sì. Cazzo, devo fare questo. Sono un pirla, porca troia. Devo stare veramente attenti. Sento già meglio. Attenzione! Si stanno muovendo! Ora il mondo è un po' meno brutto. Eh? Non è il tuo giorno fortunato. Porca troia, che partita di merda. Che male cane! Che partita di merda. Cioè, non mi ricordo di una partita andata così male. Cioè, è giocato veramente di merda. Vado. Di me? E vai a fare in culo. Te lo dico... Te lo dico di cuore. Dai. Tempo scaduto, faccia di merda! Ok. Mi metto in viaggio. Sei pronto? Sono pronto ad affrontarmi. Va bene. Ah ah! Bella! Dai. Dai. bella mossa! Bella mossa! Sto ricaricando adesso! Dunque. Mmh. Ah ah. Va, proviamo a fare così. Proviamo a fare così. Vedete, non mi viene neanche di parlare questo cazzo di video. Che vi devo dire? Per questo che volevo velocizzarlo. Non è neanche di davvero, non mi viene in un nuovo video. 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 Questo è un video. No Sì, ciao 10% di probabilità è come non averla Focca la bindella Questa non ha nessuno Facciamo così Magari riusciamo a Cazzo Servito un cazzo Non è servito un cazzo Non è servito A una beata fava 10% No, non va bene Qui siamo Che bello Eccoti un aiutino Allora Adesso ho 20% di danni in più Ma non riesco comunque E' fuori dal mio raggio D'azione Che bello Beh, ci proviamo Ok Adesso Facciamo così Questo lo portiamo avanti E gli diamo copertura Al lato Destro Che è l'unica cosa Che mi viene in mente E ora tocca a noi Merda Sporcato Eh Pronta Pronta Proviamo così È l'unica cosa Che mi viene in mente Oh E vai a cacare Guarda Te lo dico il cuore Allora Sto arrivando Facciamo così Perché voglio vedere Se riesce a Oh Beccato Sì Chi di voi bastardi È il prossimo Tutto In darsi d'oro Statue Merda Un posto così di lusso Ti fa venire voglia Di ammalarti di ruggine Eh sì I vermi ci stanno attaccando Ma come ci stanno attaccando Altri no eh È l'ora del massacro Ci sono Ci penso io Ok Sono pronto ad andare Facciamo ricaricare Tutto a tutti Ecco Allora 6 6 Questo Vai Ricarica Questo ha ricaricato Tutto Questo ha ricaricato Tutto Vai Ci siamo E quelli erano tutti Ora Chi si occupa Di quella porta Forza Tutti al cancello A sto giro A sto giro Vado veramente Super safe E me ne foto Sto ascoltando Ok Ci stiamo avvicinando L'atrio dovrebbe essere più avanti Uh Cassa Scusate Più forte di me Poi è violone È violone Ma perché Porco Giuda Che avevo selezionato Oh mamma mia Ragazzi I comandi Di sta roba Sono una roba Esagerata Sono Vai Fine turno Per forza di cose Vai You shall not pass Cos'è Sembra Bain di Batman Sembra che Hukon abbia fatto salire I suoi droni Di un livello O di 5 Abbattiamolo Cicchini maledetti Voila proprio Io faccio sul serio Cazzo è vero Che lui non ha una figa Di In attesa di ordini Vai Parla pure Allora Questa la lascio ancora qui E Ci sono La trappola è pronta Ok Affermativo Eh vabbè ragazzi Non so che cazzo fare Facciamo così Vai Vediamo cosa fanno Sono dei figli di puttana Perché mandano i puppets A farmi scaricare Tutte le unità Si tengono quelle potenti E poi me le mandano dietro Ecco Allora Vediamo un po' Se riesco a beccare Quella No Non riesco Mi sa A beccare Quello lì Però Un paio Gli ne porto Al creatore 24 di probabilità Col cazzo Proviamo anche qui A usare le granate L'unica Che abbiamo due Cecchini Che vorrei Levarmi dalla minchia Che succede Sto ricaricando Vai Facciamo così Fermo tu Fermo No Ok Supporto a disposizione Qui siamo al coperto Cosa ti serve? Eh Cosa mi serve? Tipo un attacco Nuculare Facciamo così Vai Preparatevi agli stronzi Beh dai Poteva andare Molto Peggio Non oggi È ora di andare E di colpire Duramente Che succede? Non me lo farò Ripetere due volte Io però Vorrei prendere questo 25% di probabilità No non mi sta bene Proviamo ad avvicinarci E vedere se la probabilità Oh 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 Muy bien No io non voglio prendere questo Siccome Han parlato di nube tossica Però il 33% Sai che ti dico Sto safe Ok Ricarico Qua E me ne fotto La trappola è pronta Bene Faccio Eh Avanzare lui Avanzo Vediamo che cosa fa Devo tenere gli occhi aperti E lui Dove cazzo Lo metto Mettiamolo qua Questa Facciamo ricaricare Attenti Terminazione Vengo sottotiro Bene Un'altra bella sorpresa Di Ucom Attenti a quel gas Gente Ok Allora Il gas L'abbiamo evitato No? Quindi Direi che Ok Qui è sottotiro Non capisco perché In teoria Non dovrebbe essere sottotiro Però Proviamo A giocarci Il cecchino Su quel tipo là No niente Probabilità E qui Ucciderò questo Non capisco perché E questo Evidentemente Qui non c'è C'è questa Colonna Fa sì che Pronto ad andare Se può fare Beh 58 Dai proviamoci Un'altra Maledizione 69 Vai a prendere la cassa Non spargiamo il sangue Dei vermi nella piscina Eh no La ruggine polmonare Secondo voi Sta avendo effetto Cassaforte è rilevata Negli archivi medici Abbiamo un'occhiata Più da vicino Abbiamo trovato qualcosa File di ricerca E un bel contenitore Li esamineremo al convoglio Muoviamoci Quindi Adesso si torna indietro Va bene Va bene Proviamo a fare così Spero che non ci siano Già nemici Voilà Lui lo mandiamo di là Con il suo padrone Vediamo un po' Bene Tocca a noi Cazzo Lui è troppo indietro Devo stare attento Perché Tra l'altro Il turno Doveva essere finito Quindi immagino che Io metto Queste persone Immagino che abbia ricaricato tutti Era questo Su quel discorso Metto queste persone A presidiare qua dentro E aspetto il capo Perché sennò Ho troppe Ho troppe Truppe sparse Vado subito Sul Sul perimetro Non mi va Quindi proprio Li mando tutti lì A Presidiare L'ingresso Dove avere anche un po' di Così facendo Turni Si stanno avvicinando Vebbene Perfetto Noi ci siamo Carogne Sto arrivando Ok Poi Uno Certo Certo Due Sono Tre C'entra qualcuno Dovebbe essere Maciullato Ma non sono sicuro Ma vaffanculo Ora tocca a noi Ora tocca a noi Ragazzi Mica cazzi Ma si proviamoci Vai Gli fa proprio Una beata Fava Ma proprio Idee La trappola è pronta Idee Io lascio Che vengano loro E sti Cazzi Oh Buon Vediamo un po' qui Chi c'è Vai Nel dubbio Schiero tutti In maniera tale Che possano Darmi Un benefit Maggiore La cassa blu Non la piglio Ho deciso Che la lascio lì E voi direte Ma che spreco Master Ma che spreco E sti Cazzi Adesso ve lo andate A giocare a voi Sto gioco Va bene Oh Sti Continui Commenti Negativi Sì I vermi Ci stanno attaccando Di a te Minchia Meno male Che quel verme Tipo Vediamo cosa ne pensano Di questo E agli antipoli Ok Vai vabbè No dai La prendiamo Sta cassa Dai Che poi Veramente Mi fate sentire Il non completista Quale sono L'unica L'unica differenza È che poi Me lo fate pesare Cioè nel senso Io Convivo Con il mio Non essere completista Che poi nella vita È uno dei difetti Più grandi Dei difetti Ma voi Lo fate veramente Pesare Così non va bene Cioè Dovete capire Che insomma Dovete tollerare Anche il diverso Siamo stati uguali A quelli che In America Fanno le peggio cose Con la gente di colore Non si fa così Non si fa Non si fa così Ci sono E ora Che intenzioni I vermi si accumulano No No Questo non me lo fa Quindi questo Sai che ti dico Lo mando lì Questo lo mando qua 85 Cioè C'è il rischio Che sbagli Vediamo di pigliarla Larga Perché vi ricordo Che fanno le puzze Una sola Che succede Dai Allora Lavoriamo Dai Oh Mi ricordo che C'erano I cosiddetti In consulenza C'erano le frasi Fatte Che dicevano a tutti E tra le quali C'era figa Dai Lavora bene Minchiava Veramente Cioè Alza totalmente Tanto la posta Che mi sembra Di giocare Blackjack A Las Vegas Cioè Non va bene Non va bene Cioè È troppo alta Che cos'è È un potenziamento Del sistema immunitario Sperimentale Effetti collaterali Invalidanti Ed è efficace Solo per la ruggine Ruggine Così Okon Sta morendo Di ruggine Polmonare Ma come è possibile Questa è tutta teoria Dobbiamo catturarlo Certo E ora Abbiamo la nostra Isca Sti cazzi O